ah no io le gambe finti male, no io le mani cazzo, ah l'ultimo pezzo non l'ho fatta vinto, io non mi fido troppo, no anche io dai puzzi ho fatto due dritti io all'inizio, ma sai perché ieri ho fatto l'assetto di passare il prodotto sui freni, io il primo pezzo tiravo dritto, comunque la differenza dal freno buono si, vabbè l'hanno spianato, figa io la caviglia anche per lo dargli a contropeso, ma io sono anche dritto che lo stava facendo gas, volevo morlarla di più, ma facevo i dritti, no qua si è andato bene, io non ho seguito molto le linee, ma però si è andato bene, si è andato bene, si è andato bene, tutti bene sono venuti, io ho ripreso, io ho vinto, ho fatto un pelo alla piatta con un dritto, no la prima non ho fatto lo stesso passaggio, sull'erba dove ero ero, io i dritto sono quello lì che ha fatto lui, quello piccolino, gli altri no, perché poi la forza che ho, non basta, vanno dalla fanculo, io la caviglia qua al muscolo a tenere i contropesi, non male, perché l'ultimo pezzo cerco più a farlo, ma ti è piaciuto ragazzi, eh, tanta roba questa, è perché noi ci vediamo poco, perché se uno c'è cerine adesso faranno troppo veloce, no, sono girato io l'altra, ci vediamo i bisogni, alla prossima, siamo riusciati a fare insieme facile, vediamo il ontoo in prima fase, tutto il rumore, non ci vediamo i bisogni, della storia passa, e abbiamo avuto un fuoco, Grazie.